Faccioli e Cecchetti, ancora più staccati, invece passi, e il randazzo con un po' di metro di ritardo, adesso si va ad affiancare al numero 46, poi abbiamo vinto a forza Valiglini, ecco gli antie loro fianco, e quindi Francesco Filerotti, Montefisi è l'ultimo del gruppo, ecco lui si chiuderà dunque, le patinie, ecco i nostri rossi, Ehi Matti, vai lì!